Il tema che mi pongo, a parte che ho qualche timore reverenziale nei confronti di Fabrizio per entrare in un tema del genere, perché lui ha il copyright. Ma la questione di fondo è questa, è stata sollevata anche da Andrea Fracasso, ovvero cambia il ruolo dell'amministrazione pubblica quando il problema è generare innovazione. In realtà poi questo argomento in Italia è diventato particolarmente pesante, particolarmente forte. Perché? Perché veniamo da, lo vedremo tra un attimo, da un lungo periodo di difficoltà del sistema. Non è il periodo della crisi, comincia molto prima la storia e probabilmente una larga parte del problema di crescita italiana è dovuto a un problema di innovazione. Io vorrei partire proprio da questo per poi capire qual è l'interpretazione che viene data e quindi come viene, secondo alcuni, rivista la questione dell'intervento, del supporto pubblico alla produzione dell'innovazione per poi vedere un po' le risposte più recenti e da di là aprire qualche domanda, insomma. Dicevo, il dibattito diventa abbastanza acceso quando si capisce, e questo avviene circa la metà degli anni 2000, quindi prima della crisi, che il sistema italiano è entrato in una serie di difficoltà. È entrato in una serie di difficoltà e i motivi sono più o meno abbastanza evidenti. C'è la concorrenza, c'è la globalizzazione, quindi la concorrenza dei paesi emergenti e l'Italia è un paese specializzato in produzioni tradizionali, quindi l'apertura dei mercati crea immediatamente concorrenza, ma non solo, l'Italia non può usare più un'arma che aveva usato fino al giorno prima, ovvero la svalutazione competitiva. E quindi non può più recuperare competitività in qualche modo, utilizzando l'arma della moneta perché semplicemente la moneta non è più sotto la giurisdizione italiana. La crisi fa emergere ancora con più forza questi problemi, in modi diversi. Io preferisco parlare di tre momenti della crisi, la crisi legata alla bolla dot com, poi abbiamo quella legata alla bolla immobiliare, sostanzialmente, e poi infine quella al debito sovrano. L'Italia soffre particolarmente per la terza, per motivi abbastanza ovvi, ma in qualche modo la crisi accentua a tutto. Accento a tutto, ma la storia non è nella crisi. La crisi rende più drammatico la risposta del sistema italiano. La storia comincia da prima. Prima Andrea Fracasso ha citato la produttività totale dei fattori, questo è un indicatore usato molto spesso dagli economisti per capire come vanno le cose. Diciamo, la produttività totale dei fattori non si sa bene cosa sia. È un avanzo, ecco. È qualcosa che avanza. Ma è tutto quello che non riusciamo a spiegare con l'aumento dell'uso dei fattori. Quindi dietro dire che la bassa crescita italiana è collegata alla produttività totale dei fattori vuol dire che l'Italia non è capace di aumentare il suo prodotto più di quanto aumenta le risorse che impiega. forse lo si vede ancora meglio da questa tabella vedete che nel periodo aumentano le ore lavorate da 1995 al 2014 aumenta l'input di capitale ma ahimè la produttività totale dei fattori decresce addirittura vuol dire che addirittura usiamo peggio le risorse che abbiamo naturalmente le risorse si possono usare meglio quando quando il lavoro aumenta la qualità e quindi il lavoro più professionalizzato di livello più alto eccetera eccetera quando c'è innovazione e quindi il capitale è un capitale più produttivo. Però questo è un dato drammatico dire attenzione le ore lavorate sono aumentate nonostante tutte le difficoltà noi sappiamo che oggi abbiamo un numero di occupati superiore a quello del 95 c'è stato adesso è un po' calato ultimamente ma il numero di occupati perché? Perché c'è stato l'ingresso nel mercato del lavoro sostanzialmente della componente femminile il problema evidentemente se noi non cresciamo è che non è successo qualcos'altro il lavoro non è più produttivo il capitale non è più produttivo i due fattori quando si mettono assieme non riescono a produrre di più e questo è associato abbastanza normalmente principalmente a un problema a un problema di innovazione bene c'è un'interpretazione diffusa che viene data di tutto questo la richiamo perché dietro a questa poi c'è una serie di politiche che vengono suggerite l'interpretazione diffusa molto comune sostenuta da fior di economisti alcuni dei quali ha citato anche prima erano Fabrizio Barca di questa scuola neo-ciumpeteriana ma sostanzialmente si dice alla fine degli anni 80 l'Italia termina un lungo inseguimento un lungo inseguimento questa fase di catching up dei paesi più sviluppati e attenzione quello che dicono questi economisti è c'è una differenza sostanziale tra le economie che rincorrono e le economie che si muovono sulla frontiera le economie che rincorrono e l'Italia secondo quelli di questo gruppo che studiano l'economia italiana è stata tale fino agli anni 80 le economie che rincorrono beh insomma basta che acquistino del capitale dall'estero il lavoro costa un po' meno e quindi associano un po' di invenzione un po' di capacità poi in Italia ne abbiamo messo abbastanza insomma diciamo essere i primi a fare i frigoriferi eccetera eccetera e quindi la rincorsa in qualche modo è molto più semplice ma quando si arriva alla frontiera succedono dei fatti strani il primo fatto strano che succede è che il costo dei fattori si è ugualia il costo del lavoro si è ugualia siamo tutti là no? non solo ma la capacità di crescita adesso vi mostro un grafico che è un po' stupido ma insomma ecco se questa è la frontiera ecco questa è l'economia che cresce l'economia che cerca di raggiungere la frontiera l'economia che si muove una volta raggiunta la frontiera è un'economia che deve spostare la frontiera tecnologica evidentemente cioè la capacità di utilizzare bene i fattori lavoro e capitale questa attività di crescita che non può essere più realizzata attraverso immissione di fattori capitale e lavoro ma attraverso spostamento no? dei due attraverso innovazione sostanzialmente questa è una storia ben più difficile di quella precedente è una storia ben più difficile perché? perché un sistema che vuole realizzare questo deve essere deve avere ad esempio un sistema di istruzione avanzato no? deve avere centri di ricerca pubblici capaci di competere con i migliori centri internazionali noi sappiamo ad esempio che in Italia abbiamo un'università di medio livello diffusa ma di medio livello ma le punte di eccellenza non ci sono deve avere anche capacità di ricerca nel privato deve avere un mercato del lavoro flessibile perché? perché se cambiamo le cose che facciamo perché spostiamo la frontiera non possiamo tenere le gente i dipendenti tutti bloccati con un mercato del lavoro che è sostanzialmente centrato sulla stabilità del posto del lavoro e che collega diciamo il welfare e la sicurezza alla presenza nelle stesse imprese occorre assicurare mobilità naturalmente ci saranno bene gli ammortizzatori ma di carattere completamente diverso capite che è un sistema che cambia anche il sistema del welfare deve cambiare non deve essere legato al welfare alla posizione rispetto all'impresa ma in generale la posizione nel mercato del lavoro addirittura nella posizione di cittadinanza quindi ebbene l'Italia si dice al contrario si trova ad affrontare una molteplicità di handicap cioè per modificare questo pattern di sviluppo per passare da economia di rincorsa di catching up a economia di frontiera bisogna cambiare pelle bisogna cambiare pelle perché appunto bisogna raggiungere quelle condizioni e quindi bisogna cambiare accanto al cambiamento del motore della competizione occorre creare un grande cambiamento istituzionale e si scopre che l'Italia ha pochi laureati ha una struttura produttiva centrata su settori tradizionali e questo determina una forte dipendenza e isterisi la struttura finanziaria la struttura un'economia che innova deve avere una struttura finanziaria capace di rischiare ma la struttura finanziaria italiana è molto basata sulle banche le imprese si finanziano sulle banche che per definizione dovrebbero rischiare abbastanza poco oppure sull'autofinanziamento certo sì ma l'autofinanziamento è limitato deve avere un sistema giuridico che permette il rischio uno dei problemi è la legge fallimentare la legge fallimentare disincentiva l'assunzione del rischio dobbiamo avere una regolazione del mercato del lavoro che scoraggia attualmente ce l'abbiamo insomma che attualmente adesso è cambiato ma insomma si aveva si segnava una regolazione del mercato del lavoro che scoraggia mobilità interna ed esterna e un sistema contrattuale costruito sostanzialmente su un modello fordista in cui la produttività non dipende dal lavoratore ma dipende dalle decisioni del proprietario abbiamo problemi di infrastrutture abbiamo limitata agglomerazione urbana Andrea prima ci diceva che l'agglomerazione urbana è un grosso motore di dinamica ebbene quello che dicono che dice questa linea interpretativa è attenzione occorre un grosso cambiamento istituzionale non solo questo è un altro di quei grafici abbiamo usato fonti analoghe ma mostra come ci sia una certa relazione tra la capacità di innovare questo è l'ultimo rapporto regional innovation scoreboard del 2014 e mostra che tutta l'Italia è in giallino moderato innovatore vedete come qua ci sia una linea di alta innovazione invece che sostanzialmente la linea renana che poi si estende un po' alla scandinavia quali sono le risposte naturalmente la prima risposta è evidente occorre un cambiamento istituzionale radicale per sostenere un'economia di innovazione ma poi ci si domanda e questo lo lasciamo da parte perché mi devo occupare di innovazione ma poi ci si domanda ma c'è qualcosa di più che può fare lo Stato per questo e qua abbiamo alcune risposte alcune risposte che come vedremo mi lasciano un po' perplesso ma insomma ve le indico perché sono diciamo una linea di pensiero molto comune e che ha informato molte politiche regionali e non solo un po' meno statali la prima prima idea di rispondere su questo beh occorre che lo Stato in questo sistema non si prenda solo carico di questo cambiamento istituzionale ma intervenga direttamente con il sostenendo programmi innovativi rischiosi cioè conoscete un po' la Mariana Mazzucato è una che lo dice in tutte le trasmissioni televisive o che partecipa lo Stato è uno Stato imprenditore questa è un'idea se ci pensate ve l'ho segnalata un po' direi fordista un po' fordista cioè cosa c'è dietro a questa idea c'è l'idea che il problema fondamentale è un problema del rischio del controllo del rischio io ci vedo qualche affinità anche se in un contesto molto diverso con il grosso piano di intervento pubblico che fu realizzato nel dopoguerra quello che poi dette luogo alla nascita delle partecipazioni statali quello promosso da questi grandi personaggi come Menichella Beneduce Pasquale Saraceno dove il problema cos'era era un'economia di rincorsa chiaramente dopo la guerra ma questi economisti e non solo economisti ma anche grandi amministratori perché insomma questi dicevano attenzione quello che noi sappiamo è che nella diciamo seconda rivoluzione industriale quella basata sulle grandi produzioni di flusso il capitale che serve per immettere queste produzioni è molto alto e in un paese poco sviluppato e reduce dalla guerra come l'Italia questo capitale non c'è quindi insomma il salto per avviare quel processo di rincorsa quel salto è un salto molto costoso è molto rischioso per fare la siderurgia occorrono grossi capitali per fare la cantieristica occorrono grossi capitali per fare molte delle produzioni e allora cosa facciamo socializziamo il rischio vedete che la risposta che viene data diciamo in una versione diversa ma è ancora una questione di socializzazione del rischio con una differenza fondamentale però che mentre nel caso di Menichella di Beneduce di Saraceno era chiaro cosa dovesse fare il pubblico perché perché era chiaro che un paese per svilupparsi avesse bisogno di acciaio quindi poi i mercati erano chiusi e quindi bisogna fare acciaio nessun privato riesce a fare acciaio facciamo lo Stato fa l'acciaio socializzando il rischio di questa operazione di investimento quando noi parliamo di innovazione noi non sappiamo che cosa dobbiamo fare che cosa farà dove si investe come sarà lo Stato capace di individuare in modo lungimirante i nuovi settori le nuove cose ma siamo sicuri io ho qualche dubbio ma insomma c'è una versione un po' più blanda di questo di questo schema di risposta che è più orientato ai sistemi locali però la natura secondo me è esattamente la stessa allora l'idea è quella beh insomma lasciamo perdere a livello nazionale non ci si riesce eccetera ma è possibile forse creare isole locali in cui il pubblico sostiene un investimento mirato a sostenere lo sviluppo in particolari tecnologie favorendo la creazione di luoghi in cui si incontrano università imprese poli distretti tecnologici eccetera eccetera insomma al posto dello strato imprenditore della Mariana Mazzucato avremo un'amministrazione locale imprenditrice amministrazione locale che definisce adesso questo è distretto industriale investiremo sull'informatica avanzata e facciamo il distretto da notare che questa idea di facciamo il distretto che è molto italiana scoccia un po' con il fatto che nessuno ha fatto il distretto delle scarpe non c'era un ingegnere che ha detto beh adesso facciamo nella riviera del Brenta il distretto delle scarpe e facciamo ad Arzignano il distretto della Concia e quant'altro insomma facciamo di sfiamo i distretti nascono per fenomeni spontanei e agglomerativi che hanno una storia dedicati eccetera ma l'idea siccome appunto bisogna in qualche modo superare questo handicap si dice benissimo facciamo il polo facciamo il distretto eccetera eccetera ma senza considerare alcuni meccanismi che sono che stanno dietro alla oltretutto guardando perché si fa questo strano parallelo si dice noi in Italia abbiamo i distretti abbiamo visto che funzionano vediamo che esiste a Stanford un distretto nella Silicon Valley io a Boston dov'è una roba che assomiglia a questo distretto benissimo prendiamo e importiamo ma facendo questo poi non si considerano alcuni di quei meccanismi che richiamava Andrea ad esempio il fatto che in quello schema esistono anche grosse concentrazioni urbane esiste una grande impresa che ha un ruolo particolare adesso ci entra un po' un po' più nel dettaglio il risultato di questo ahimè uso uno slide che ho rubato da qualcuno è la sindrome del frattale e cioè succede per un po' che molte regioni tendono a riprodurre in piccolo su scala geografica ridotta tutta la complessità che si trova nei programmi di ricerca scientifici tecnologici a livello mondiale europeo e nazionale e quindi insomma abbiamo obiettivi impraticabili a raggiungere le eccellenze in un gran numero di settori tra cui ci sono sempre ICT biotecnologie nanotecnologie ci sono sempre le stesse cose bene io credo che dietro a questo modello che adesso io ho un po' banalizzato la cosa però ha un suo interesse una sua storia anche se per carità i casi di fallimenti dei politecnologici sono abbastanza frequenti Venezia ne conosce qualcuno credo che invece siano bisogna riflettere in modo molto serio su alcuni presupposti di questo approccio che determina proprio una diciamo da qui deriva un disegno del rapporto tra il pubblico e il privato nel fare innovazione io credo che ci sono due presupposti che vanno posti in discussione il primo è che l'Italia è un'economia inseguitrice tutto nasce da questo l'Italia non è capace di fare innovazione calmi un attimo vediamo certo dal grafico dell'Europa è così ma attenzione forse è il caso di andare di là delle medie direi in secondo luogo la seconda idea che va va valutata criticamente è che l'economia innovativa cioè quella posta sulla frontiera si strutturi secondo un modello unico one best way sostanzialmente corrispondente a quello osservato negli Stati Uniti appunto nella Silicon Valley o a Boston eccetera in cui dopo vedremo un attimo come secondo me è il disegno che viene il disegno del rapporto tra pubblico ricerca innovazione che viene disegnato in quei casi primo primo punto critico produttività e competitività italiana davvero la nostra situazione è così drammatica davvero noi siamo completamente fuori della frontiera tecnologica ma qua abbiamo tutta una serie di considerazioni io ve ne cito alcuni c'è un bel libro di De Nardi Setraù oramai del 2005 c'è tutta una serie di studi fatti da Mediobanca da Coltorti questo riguarda il Veneto il nord-est Feltrine Trattara un altro bel libro che ci mostrano in realtà come nel manufatturiero almeno e questo è importante Fabrizio diceva prima il nostro problema è nei servizi attenzione ma nel manufatturiero esiste una fascia di imprese che sono state capaci che hanno imparato a competere e a crescere e questo lo vediamo lo vediamo chiaramente se noi non siamo sprofondati dopo la crisi dei debiti sovrani è perché delle medie imprese hanno continuato a esportare perché la domanda interna è ferma bloccata anzi negativa è in calo fino all'altro ieri adesso naturalmente tutto cambia allora queste imprese sono state in grado di sviluppare il proprio cambiamento attraverso continua esplorazione di nuove frontiere di nuovi mercati di riferimento di nuove modalità di organizzazione della produzione ci sono più cose in cielo e in terra di quanto non ci siano nella tua filosofia queste evidenze sono evidenze importanti queste evidenze sono rafforzate da una serie di studi io ne cito alcuni questo lavoro di dosi che analizza e una serie di altri che analizza la produttività del lavoro loro parlano di turbulence beneath the big calm sotto la grande calma c'è una forte turbolenza se andiamo a esplorare i dati nel profondo troviamo qualcos'altro ancora questi studi da bugamelli schivardi cito anche un mio che è il lavoro in cui noi mostriamo vediamo se c'è qua ma giusto per vedere che c'è scienza quello che facciamo è questo vediamo chi muove la frontiera che sono questi due gruppi chi è sulla frontiera e chi la muove i leader dinamici mentre questi sono quelli che rincorrono e cosa vediamo vediamo che la probabilità di essere in questi gruppi dipende dal costo del lavoro chi è il costo del lavoro più alto e più un'impresa dinamica dalla la quota skill ratio è la quota di lavoratori impiegati e tecnici e dall'uso di contratti part time quindi perché vi mostro questo perché ci dice che secondo me secondo noi con il dualismo nel mercato del lavoro quindi con la flessibilità associata solo a una categoria una parte dei lavoratori le imprese seguono due strategie ci sono le imprese che accettano il costo del lavoro alto e innovano e sono quelle che innovano e ci sono imprese che concorrono che fanno la strategia un po' di retroguardia se la mia produzione è messa in difficoltà prendo lavoratori part time o a con contratti temporanei che guarda caso hanno anche una paga inferiore e quindi cioè che in qualche modo una delle risposte dovute perché la flessibilità abbiamo visto è una risposta dovuta ma realizzata in un modo dualistico riproduce quel dualismo a livello industriale quindi primo primo argomento non siamo sicuri che l'italia sia un'economia totalmente sotto la frontiera noi abbiamo dei perché è importante questo perché significa dire abbiamo dei punti a cui agganciarci no? abbiamo dei punti a cui agganciarci non è un'intera economia che deve cambiare noi dobbiamo scoprire capire dove possiamo far perno per raggiungere per mentre abbiamo un grossissimo problema e il problema qual è? che è più evidente da questi dati che è mascherato dai dati sulla media che si allarga la differenza allarga la variabilità con la crisi quindi il problema non è tanto che non ci siano imprese alla frontiera la media è bassa ma perché si è allargata abbiamo alcune imprese che competono molto bene ma abbiamo una lunga fila allora il problema si sposta dall'agire sulla frontiera all'agire sulla riduzione del divario tra quelli che stanno indietro e quelli che sono avanti secondo punto di critica che io faccio a quel tipo di approccio è c'è davvero un'unica via per arrivare a pensare a un intervento pubblico che favorisca l'innovazione ebbene io credo che la via che si che viene accolta che viene assunta soprattutto dall'esperienza statunitense e di alcune particolari esperienze all'interno degli Stati Uniti sia quella che c'è un luogo dove si produce conoscenza che sono i laboratori universitari sostanzialmente e poi abbiamo due canali con cui questa conoscenza viene trasmessa uno sono i grandi lavoratori industriali che lavorano con i laboratori universitari quindi il contatto si genera naturalmente e l'altro sono le start up accademiche le start up accademiche a loro volta vengono alimentano le grandi imprese non sono imprese eterne sono imprese che prendono e rivendono d'accordo e tutto questo genera la diffusione dell'innovazione naturalmente in un ambiente metropolitano che è quello che agevola il tutto ora questo è lo schema che viene ereditato io credo che non esista solo questo schema quanto in realtà se noi osserviamo le regioni europee anche qua c'è una nuvola di punti c'è una pubblicazione che ho citato prima il regional innovation scoreboard che diciamo fa un ranking con una serie di parametri delle regioni europee laureati in educazione terziaria diciamo brevetti eccetera eccetera io ho semplificato un po' le cose non so se è vero ma utilizzando un po' di pastrocchi statistici e ho ridotto tutte queste cose a due elementi che sono uno una generica capacità innovativa e l'altro la tipologia di attività innovativa la capacità innovativa va letta in questa direzione è maggiore dove i segni ne sono di più sempre per le strane cose della statistica ma è così la tipologia di attività innovativa invece è la presenza di forme formalizzate formali o informali di innovazione forme formali sono brevetti spese di ricerca e sviluppo eccetera eccetera forme informali sono tutte quelle che si registrano perché molte imprese appunto dichiarano di fare innovazione all'interno di non brevettare eccetera la cosa che vedete è che a parità di livello innovativo certamente questa area qua è completamente assente cioè senza troppa senza ricerca formale avete bassissima capacità innovativa ma oltre una certa soglia avete un'enorme variabilità cosa vuol dire questo notate che la Germania la Germania è posta nel centro non è posta in alto cioè vuol dire che un sistema in cui la sua capacità innovativa e questo è la regione europea con la maggiore capacità innovativa globale ma è collocata a metà strada tra le forme informali e le forme formali di acquisizione della conoscenza in alto ci sono i paesi scandinavi dove hanno forte innovazione ma una forte componente di conoscenza formale anche qua negli stati intermedi dove più o meno è posta l'Italia voi avete la varietà più ampia l'Italia è quella e l'insieme ai paesi del sud Europa sono quelli in verde diciamo questa è l'Italia queste sono le regioni italiane le regioni italiane sono collocate tutte in questo segmento quindi sono tutte abbastanza basse diciamo però vedete che anche qua voi avete una grandissima variabilità nella composizione tra elementi formali e elementi informali della conoscenza pure a parità di livello di innovazione globale qua avete alcune regioni ho messo anche le regioni austriache perché così insomma siamo qua vicini queste sono questo credo che si è Friuli sì i Friuli questo è Piemonte vedete Piemonte e questo deve essere il Lazio vedete il Lazio c'è una componente formale di ricerca molto più alto del risultato globale che presenta quindi abbiamo una varietà di situazioni io cerco di razionalizzare un po' questo in questo modo in realtà nel sistema di innovazione e conoscenza abbiamo diverse modalità di avanzamento una può essere chiamata science technology innovation che è molto science push che nasce direttamente dalla conoscenza analitica dalla conoscenza più formale e viene trasmessa attraverso documenti formali brevetti istituzioni laboratori centri di ricerca università ma poi abbiamo un altro motore di innovazione che si può chiamare doing using interaction che è technology pool dove la domanda nasce qua e si usa conoscenza che da alcuni viene detta conoscenza sintetica cioè conoscenza tacita soluzione a problemi specifici e via di questo passo c'è anche importante per l'Italia quella che viene detta conoscenza simbolica i design gli artefatti non ci sono brevetti su design non lo troviamo nelle misure del regional european scoreboard che viene trasmessa attraverso la trasmissione di artefatti per esempio ebbene questa complessità della relazione tra modelli di conoscenza e modelli di innovazione credo che abbia un effetto sul disegno del rapporto di che cosa può fare il pubblico in questo settore che cambia un po' le carte in tavola anticipo delle cose perché così abbrevio un po' visto che mi sembra di prendere già abbastanza tempo ma l'idea è che ci sono delle funzioni fondamentali che devono supportare l'esplorazione di questo mondo quindi che questi signori questi che fanno innovazione in questo modo devono sapere cosa c'è dentro dove cercare le cose abbiamo bisogno in qualche modo di bridging institution di istituzioni che facciano da ponte tra il mondo dell'innovazione e il mondo delle ricerche ma ci arrivo con un passaggio perché questa idea della varietà in realtà è stata assunta da un grande disegno europeo che va sotto il nome di smart specialization che è un tentativo di risposta è un tentativo di risposta che ha secondo me un punto molto positivo è un punto che mi lascia decisamente molto più perplesso il punto positivo vedete c'è un documento da cui nasce tutto che è fatto da Dominique Foret Paul David e Browning Hall da cui nasce questa idea di smart specialization la prima idea molto positiva è loro ci dicono attenzione l'innovazione è un processo di scoperta questo è importante perché ci dice che il mondo dell'intervento pubblico non è quello dei beneduce facciamo l'acciaio ma è quello che deve incentivare la scoperta dove ci sono le cose interessanti dove posso cogliere per la mia impresa un input un'idea che non c'era un risultato della conoscenza che cambia il mio modo di produrre o il prodotto che faccio questo va scoperto questo è un'idea interessante l'idea un po' meno interessante che viene fuori da questo scritto e dietro a questo c'è un lungo rapporto dell'Unione Europea di cui loro tre erano i insomma i redattori o i consulenti insomma loro propongono un'azione differenziata cioè loro cosa dicono in questo io ci vedo molto Dominique Forêt che conoscendolo è francese molto francese l'idea è quella loro dicono attenzione noi abbiamo una dinamica distribuita in modo diverso tra regioni specializzate nelle invenzioni di base e regioni che investono in domini di applicazioni specifici quindi abbiamo delle regioni che sono collocate sulla frontiera tecnologica scientifica che sono le regioni leader e questi fanno le tecnologie di base le key enabling technologies così vengono chiamate allora noi specializziamo questi grossi centri nel fare tecnologie di base e poi chiediamo alle regioni di capire qual è il loro campo di specializzazione e promuoviamo l'integrazione di imprese e centri di ricerca nei campi di applicazione specifici perché penso che questa idea sia francese perché risenta molto queste sono le smart specialization così come sono state definite dalle regioni italiane vedete c'è anche Trento Agri-food Energy eccetera ci sono anche degli studi che mostrano insomma in che settori ci si specializza lascio un po' perdere questo ma perché questa idea mi lascia un po' perplesso mi lascia un po' perplesso perché perché in realtà presuppone un mondo in cui ci sia una forte gerarchia dei centri di ricerca c'è Parigi e Parigi e quindi a Parigi facciamo le nanotecnologie a Parigi o a Lione o dove ecco e quindi ci sia una forte gerarchizzazione sia del sistema della ricerca sia del sistema produttivo d'accordo con una forte capacità e in Francia questo è avvenuto insomma l'aerospaziale dove si fa a Toulouse a Toulouse io metto un'università che fa aerospaziale e c'è Airbus e quant'altro c'è perché è ereditato è una storia vecchia è una storia di guerra insomma la nascita da Toulouse dell'industria aerospaziale ma capite che costruiscono un sistema che si basa su una gerarchia il problema nostro è che in realtà che in realtà questa gerarchia non c'è si potrebbe creare ma chissà quanto tempo richiede non so nemmeno se sia davvero una buona strada un'idea un po' più articolata io la vedo in un po' di lavori soprattutto proposti da Roberto Camagni Roberto Capello eccetera loro insomma in qualche modo dicono sì più che questa polarizzazione noi abbiamo molti pattern di innovazione non entro nel merito ma è interessante studiare perché in ogni pattern di innovazione cosa succede? Che ci sono modalità specifiche per la realizzazione delle fasi del processo di innovazione quindi diversi modi con cui centri di ricerca si collegano a imprese si collegano alle competenze presenti nel territorio e via di questo passo e questo assume modalità molto varie non necessariamente questi legami sono legami locali alcuni di questi legami sono distanti loro in particolare poi individuano questi cinque pattern di innovazione european science based area applied science area smart technological application area smart creative diversification area and innovative innovation area e qua fanno anche la loro cartina geografica anche loro come tutti fanno questa roba perché basta entrare in euro e cliccare un po' di bottoni e vengono fuori queste cose meravigliose ecco vedete un po' che già l'italia ha tre pattern sono presenti regioni caratterizzati da tre pattern di innovazione bene io credo che appunto un problema fondamentale per l'italia sia che questa strategia della smart specialization così almeno come fu definita inizialmente dai documenti fondativi sia una risposta che incomincia a dire qualche cosa ma è una risposta molto parziale in realtà noi non credo che l'assenza di poli scientifico tecnologici dominanti e la scarsa gerarchizzazione del sistema della ricerca fanno sì che sia una strada abbastanza poco perseguibile viceversa abbiamo in prevalenza un modello di innovazione diffusa secondo un modello doing using interaction la questione fondamentale è che i problemi che nascono nelle imprese che fanno innovazioni di questo tipo innovazione che nasce con l'uso e i centri di conoscenza questi diciamo le domande e le risposte ai problemi non sono vicini ma non sono necessariamente vicini perché il nostro sistema della conoscenza il nostro sistema universitario ha perseguito strade che sono definite dalla natura dalla direzione stessa dalla storia e poi dalla direzione stessa dell'avanzamento scientifico per cui chi sapeva fare delle cose ha sviluppato poi un dipartimento sempre più forte che non aveva niente a che vedere con il territorio magari un ottimo magari delle volte si è sviluppato anche per tutt'altri motivi meno nobili però insomma quindi il problema è a mio giudizio se noi dobbiamo ripensare al ruolo pubblico in questo giochino il problema è quello della rete delle connessioni tra centri di ricerca e imprese che fanno innovazione che attualmente presenta molti io li chiamo vuoti non io ma è uno termine che si usa nel network analysis molti vuoti strutturali che non possono essere colmati attraverso una collocazione forzata di centri di ricerca e contesti produttivi imprenditoriali questo è la chiave del messaggio noi dobbiamo lavorare sulle connessioni non dobbiamo portare se noi facciamo bene le viti il dipartimento di ingegneria che fa le migliori viti del mondo non è così anche perché siamo su un mondo di innovazione di conoscenze in cui non sappiamo se la conoscenza che ci serve per il nostro problema lo troviamo nel dipartimento che fa le viti o non lo troviamo in quello che fa le nanotecnologie o non lo troviamo e che ci mostra che c'è un modo completamente diverso dalle viti di tenere attaccate due parti no? e questo e quindi la costruzione di sistemi locali di innovazione richiede la creazione di bridging institutions istituzioni specializzate in tecnologie in grado di mappare problemi e soluzioni e immettere nel modello prevalente che è questo doing using innovation elementi avanzati di conoscenza un altro rischio no? della mappatura esatta e che si fanno solo le cose che si fanno fare viceversa no? se noi creiamo dei ponti creiamo dei ponti di missione del nuovo sia in una direzione ma sia anche nell'altra la conoscenza che si crea nell'impresa può essere trasferita anche al dipartimento universitario un esempio di questo sono noto insomma è fra un offer tedesco ecco il sistema locale dell'innovazione insomma questo è un po' il messaggio con cui voglio lasciare non si realizza mettendo assieme componenti che già ci sono cioè non è una scatola magica in cui non è una scatola magica né un free lunch un pasto gratis in cui basta mettere assieme pane e mortadella e si fa una buona colazione ecco la costruzione di questo richiede un investimento e l'investimento essenziale a mio giudizio è quello proprio legato alla creazione di queste bridging institutions grazie grazie grazie